In una fase difficilissima in cui i servizi pubblici, i servizi sanitari, i servizi sociali sono oggetto di una riduzione di risorse durissima, noi non intendiamo essere i semplici trascrittori di questo razionamento e trasferirlo ai territori. Noi intendiamo difendere il nostro livello nel quadro nazionale molto buono di risposta ai bisogni dei cittadini, garantita attraverso il sistema di servizi pubblici. E innovandolo, renderlo sostenibile nelle difficilissime condizioni date, che non sono solo condizioni di difficoltà di risorse legate alla crisi, ma sono condizioni anche di incertezze del quadro di programmazione nazionale e che sono condizioni di grandi cambiamenti sociali, epidemiologici, demografici, tecnologici e delle professioni. Non vogliamo avere un atteggiamento remissivo che subisce in modo passivo e frantumato queste scelte che non condividiamo, ma vogliamo viceversa rilanciare il valore di politiche che danno risposte a diritti fondamentali dei cittadini. Quando diciamo, ed è sotto gli occhi di tutti, che i bisogni prevalenti sono legati alla cronicità, alla non autosufficienza, alla presa in carico e che per questi bisogni luoghi di assistenza migliore non è l'ospedale e l'ospedale per acuti diciamo anche che c'è bisogno di un riordino complessivo e della rete di cure primarie e di innovazione delle cure primarie anche attraverso l'ampliamento della diffusione delle case della salute, ma anche un'innovazione nell'organizzazione dei letti ospedalieri e quindi l'introduzione di queste strutture intermedie o altrimenti detti in modo per me più comprensibile ospedali di comunità ospedale di prossimità che vicino al domicilio dei cittadini intercettano il bisogno quando questo si manifesta all'interno di programmi di presa in carico e di continuità delle cure, danno soluzione alla riacutizzazione di una condizione cronica e riaccompagnano il cittadino al suo domicilio prendendosi carico dei bisogni per quelli che sono in quel momento e non più un passaggio burocratico e automatico e molto spesso non raccordato tra il domicilio e un ospedale che dimette con una lettera di missione affidando non si sa chi poi la gestione di quel paziente. La nostra risposta è costruire delle reti di risposte territoriali ampie tra sociale e sanità ma anche tra le risposte che già noi abbiamo sui territori, quelle che fanno i nostri enti locali che sono titolari della risposta e anche quelle diversamente rappresentate sui territori perché abbiamo bisogno di tutti. Quando avete chiesto i tagli dei fondi vi è stato esplicitamente risposto che non c'è più il fondo sociale nazionale e che ogni volta che si cerca di farlo ripartire c'è qualche blocco e non abbiamo la tutela dell'assistenza di base nel livello sociale perché non abbiamo neanche un piano su cui andare a contrattare. Questa è la grande sfida. Noi abbiamo applicato, abbiamo retto, abbiamo risposto ai tagli nel livello nazionale cercando di mantenere l'impegno sociale e questo è una cosa, è un dato di anni. Noi diciamo che adesso siccome il settore degli anziani è accompagnato fortemente nella nostra regione dall'impegno del fondo che è importante come sapete, per parte sociale non possiamo esimerci dal sostenere tutta l'area dell'infanzia e delle giovani generazioni e in qualche modo l'accompagnamento alle famiglie.